diciamo questo noi abbiamo parlato fino adesso del codice in tutti i suoi aspetti e poi abbiamo parlato delle regole tecniche verticali la lascio continuare tolgo la webcam l'ascolto la regola tecnica verticale che è associata al codice per esempio l'albergo, l'ufficio però ci sono delle attività a cui non si applica il codice sono attività in cui si applicano i decreti ante codice per cui se voi vi trovate in queste attività non dovete applicare il codice poi lasciamo perdere che se uno dovesse chiedere una deroga potrebbe far riferimento al codice ma diciamo che per questo tipo di attività il codice non si applica facciamo una rapida carrellata di quello che dobbiamo sapere ma non per l'esame sapere proprio a livello di conoscenza professionale primo problema quali sono queste attività allora vediamo lo stabilimento dove si impiega o si produce il gas infiammabile per questo non si può fare riferimento al codice l'impianto di compressivo per esempio l'attività dove ci stanno delle grosse prese di gas metano che servono per i forni e ci hanno degli impianti importanti che devono essere realizzati secondo delle normative di riferimento poi ci sono gli impianti di compressione e decompressione di gas il classico caso la cabina di decompressione del gas del metano che arriva nelle città che arriva nei quartieri pure questo qua esistono normative specifiche che si applicano dopo le vediamo le citiamo fondamentalmente e per il quale non si applica il codice di prevenzione in centro poi tutto ciò che riguarda il deposito di bumbole ci sono delle normative specifiche i serbatoi i serbatoi i serbatoi del gas liquefatto disciolto compresso 99% troveri di serbatoi di GPL però ce ne sono anche di altri tipi per questi ci sono delle norme specifiche si applicano quelle e non quelle del codice le reti di trasporto del gas le centrali di produzione di idrocarbure questo qua sono le piattaforme marine sono difficili da trovare nella pratica professionale ma pure per questi non si applica il codice poi gli stabilimenti dove vengono utilizzati i liquidi infiammabili per la produzione stesso discorso c'è tutta una normativa che si applica alla tubazione all'installazione delle apparecchiature che vengono utilizzate e per queste pure non si applica il codice i depositi di liquidi infiammabili combustibili che ne so il deposito di olio lubrificanti il deposito di di gasolio che viene utilizzato o di bitume che viene utilizzato per perché venga bruciato per produrre calore ci sono vari tipi tutto questo questo tipo di attività che sono soggette al codice che sono soggette alla DPR 151 se ne sono soggette ai vigili del fuoco non hanno il corrispettivo nel codice di prevenzione di incendi dovete trovare la norma specifica gli impianti di distribuzione carburanti tutti non si applica il codice sono delle leggi specifiche molto ben definite dove si deve fare tutta una serie di considerazioni sulle distanze di sicurezza e sulla modalità di installazione degli impianti adesso una veloce carrellata abbiamo un deposito di bombole di GPL esiste la circolare 74 del 56 cioè addirittura questa va avanti da oltre 60 anni quindi se dovete installare un deposito di bombole di GPL dovete eseguire questa fino a un massimo di 5000 kg poi a seconda del quantitativo ricadete in categorie diverse cosa comporta il fatto di ricadere in categorie diverse comporta che le distanze di sicurezza tra il depositino ecco oggi si vendono i depositi prefabbricati dove si mettono da una parte le bombole piene e dall'altra parte le bombole vuote con la loro ventilazione sono prefabbricate già calcolate c'è bisogno nemmeno di realizzarle questi qua devono stare a distanza di sicurezza sia a distanza interna cioè nei confronti del fabbricato interno all'attività e sia a distanza esternica rispetto alle alle aree fabbricabili o altri edifici e c'è tutto scritto nella normativa quali sono queste distanze da rispettare poi ci sono i serbatoi pensate che i serbatoi di gas liquefatto di GPL costituiscono hanno costituito circa la metà delle pratiche di prevenzione incendi quindi il numero dei serbatoi di GPL quello che vengono utilizzati normalmente per le casette di campagna ma anche nelle aziende per la verità sono tantissime queste attività ci sono quelli della liquigas della ultragas della energas c'è sta lì tutto e di più e questa qua facilmente è una pratica facile da fare però fare con attenzione perché qua si tratta di gas che se fuoriesce siccome è più pesante dell'area tende a stratificare nelle zone interrate che si fa quando si fa il progetto del serbatoi si prende il decreto di riferimento che è il 14 maggio 2004 e si fa tutta una serie di considerazioni su dove lo metti a che distanza vedete questo è uno spaccato qua c'è un autocister deve stare a 5 metri dal palazzo il serbatoi deve stare a 8 metri dal cordolo di sicurezza per evitare che la gestione vada a finire addosso deve stare a 8 metri dal palazzo questo sta fuori se sta sottoterra la distanza dal palazzo si può dimezzare cioè si fa tutto un gioco di distanza questa norma qua si applica ai serbatoi fino a 13 metri cubi vedete che il decreto non fa altro che parlare di distanza di sicurezza vi dice a che distanza ci deve stare dal fabbricato da un'apertura che è collegata con un piano interrato per il fatto che il gpl è pesante e questo in relazione alle dimensioni del serbatoio quindi in realtà quando vi capite il serbatoio via del decreto vedete dove ricadete e lo realizzate con molta facilità tra l'altro questa è una categoria A quindi qua non ci sarà il parere favorivo delle rivigili del fuoco al progetto dove dovreste andarlo già voi fatti questi hanno spaccato di un serbatoio in questo caso fino a 3 metri cubi di gpl vedete le distanze come si calcolano rispetto alla ferrovia rispetto alla linea elettrica rispetto agli edifici interni esterni se sono fabbricati con affollamento oppure no pure questo qua questi sarebbero i serbatoi vedete quello verde si mette sotto terra questi bianchi hanno le selle e si mettono fuori terra questi sono i dispositivi di sicurezza che devono stare sui serbatoi se il serbatoio è molto grande cioè supera i 13 metri cubi e facilmente rientra in attività non sempre però a volte rientra in attività a seveso che vediamo dopo bisogna fa riferimento a un altro decreto che è il 13 ottobre 1994 che si applica ai serbatoi superiore a 13 metri cubi qua c'è scritto 5 ma in realtà è stato corretto con la modifica del decreto precedente e anche quando c'è più di 5000 bombole 5000 kg di bombole se vi ricordate quello di prima era fino a 5000 perché dopo 5000 si applica questo qua stesso discorso questo impianto è costituito da una serie di realtà cioè ci stanno i serbatoi ci sta l'autocisterna che fa il caricamento oppure prende il gpl per andarlo a distribuire nelle campagne ci sta la sala pompe ci sta la sala antincendio ci sta la sala di imbottigliamento e ci sono delle distanze reciproche da rispettare quindi la cosa importante in questi casi qua è stare attenti a rispettare le distanze perché tanto l'impianto lo farà non lo farete voi lo farà la ditta specializzata però quello che è importante non dovete sbagliare le distanze di sicurezza sia tra punto e punto interno sia rispetto a ciò che ci sta all'esterno quindi qua in un caso una grossa ditta che c'è un grosso stabilimento di gpl addirittura questa è una ditta seveso perché c'è moltissimo gpl si applica tecnicamente quel decreto e poi si devono fare altre considerazioni sulla sicurezza esterna vedete per esempio in questo caso qua si fa vedere pure che ci sta all'esterno di questo stabilimento questo qua è in provincia di Salerno in un raggio di due chilometri vede che a sinistra ci sta campagna cioè zone coltivate sulla destra cominciano a esserci degli insediamenti ma bisogna verificare se in quel contesto quel tipo di attività si può tenere questo per esempio è un grosso impianto di gpl dove c'è il riempimento della bombola che viene venduta dove vedete in fondo vedete la docisterna dove c'è una docisterna che scaricano nei serbatoi che stanno sotto al tumulo centrale e a loro volta ci sono le botticelle che prelevano il gpl per andare a riempire i serbatoietti che stanno nelle campagne chiaramente questa attività è molto più complessa del semplicissimo serbatoio di gpl che sta vicino alla vostra casa in campagna è una cosa questo ovviamente distributore di carburanti questi sono stati definiti già dal 31 7 34 un decreto che è stato fatto in piena epoca fascista per definire le modalità con cui venivano realizzate le raffinerie e i depositi del carburante perché era un periodo dove ci si preparava un'eventuale guerra e se lo leggete il decreto vedete che sono scritte cose che fanno pensare i fucili le scarpe con lo sperone metallico che non devono far scendire cioè si vede chiaramente che è un decreto che è stato fatto in un'epoca particolare però nonostante questo è ancora in vigore perché comunque le regole di fondo sono rimaste le stesse e in questo in questo decreto si parla in un settore anche dei distributori di carburante che poi hanno avuto successivamente delle implementazioni in particolare con la circolare del 69 e con altri circolari e decreti successivi quando hanno istituito per esempio il recupero dei vapori di benzina di benzene per la verità e via dicendo il dispositivo antistrappo delle colonie di carburante e così via ma il decreto madre rimane sempre quello del 34 uno dei settori pensate giusto per conoscenza che nel decreto del 34 nell'ultimo settore che è stato abrogato si parlava delle autorimesse cioè le autorimesse che oggi voi fate col codice per la prima volta furono trattate nel decreto del 34 cioè nello stesso decreto dove ci stavano le raffinerie perché perché le autorimiste venivano considerate depositi di carburante che in effetti quello su è la normativa più severa di quella di oggi questo è importante saperlo proprio professionalmente per capire se un liquido infiammabile è pericoloso bisogna vedere a che temperatura emette vapori che possono prendere fuoco questa cosa è definita in questo decreto qua la benzina per esempio prende fuoco a meno i vapori della benzina a una temperatura inferiore ai 21 gradi anzi intorno ai 20 gradi sotto zero addirittura quindi è un liquido di categoria A il cherosene prende fuoco a una temperatura compresa tra 21 e 65 gradi quindi è un liquido di categoria B il gasolio generalmente prende fuoco a 65 gradi quindi è un liquido di categoria C nel decreto venivano definiti l'hanno cambiato anche i liquidi di categoria D ma in realtà sono ricompresi nei C che erano gli oli combustibili che bruciano a oltre 125 gradi tenete presente che non tanto gli oli lubrificanti ma gli oli combustibili gli oli lubrificanti bruciano ancora a più della temperatura degli oli combustibili tenete presente che il fatto che un liquido bruci prima lo rende estremamente più pericoloso di quello che brucia dopo che è stato riscaldato quindi se voi pigliate il gasolio oggi lo buttate per terra e gli buttate il diamifero quello non si incendia perché la sua temperatura è di 5-6 gradi la temperatura ambiente la benzina invece si incendia perciò è molto più pericolosa ma una volta che si sono riscaldati questi liquidi bruciano tranquillamente cioè se il gasolio arriva a 65 gradi poi brucia come a benzina non è che non brucia impianti di distribuzione carburante qua ci abbiamo un distributore classico benzina gasolio che ci sta le colonnine e ci stanno i serbatoi e sono sempre interrati è molto banale la cosa chiaramente ci sono i loro dispositivi di sicurezza e le le uniche cose importanti perché su questo aspetto gli impianti di distribuzione carburante con carburanti liquidi non hanno grosse distanze di sicurezza rispettate ce ne sono alcune ma non tantissime tant'è vero che una volta addirittura erano posizionate vicino a degli edifici poi le hanno dislocate all'esterno per altri motivi quello che è importante è rispettare per le colonnine della benzina non tanto per il gasolio ma per la benzina che rispetto ai parcheggi però i parcheggi ho più di 9 auto per la verità e rispetto ai centri insomma di consumazione pasti se questi sono più grandi di 200 metri quadri devo rispettare una distanza di sicurezza che è 9 metri queste sono le uniche cose che fondamentalmente bisogna rispettare il problema nasce dopo parleremo di dispositivi di sicurezza di serbatore il problema vedete queste sono le distanze che vanno rispetto c'è poca roba in sostanza da dire quello che è importante è quello che succede dopo quando gli impianti diventano più complicati questo è un decreto per esempio che uscì nel 2002 che è un decreto che fa parte della prevenzione di incendi ma fondamentalmente è un decreto ambientale che diceva che da quell'anno in poi quando tu installavi un serbatore interrato in particolare nel caso degli impianti carburanti doveva essere un serbatore che non perdiva che non inquinava il terreno quindi o lo mettevi con una parete metallica all'interno di un bacino di contenimento in sabbia oppure lo mettevi creavi un serbatore a doppia camera in modo che le perdite rimanessero nella doppia camera questo è un caso classico di un serbatore che viene rifornito da una docesterna questi due tubi che vedete sono per la benzina perché quando si travasa la benzina si fa il ciclo chiuso cioè si collega la fase liquida dell'autocisterna con la fase liquida del serbatoio e la fase vapore del serbatoio interrato con la fase vapore dell'autocisterna in modo che ci sta un movimento di liquido benzina e vapore di benzina chiuso che non va a contatto con l'atmosfera per il gasolio non è obbligatorio quando hanno cominciato a diffondersi gli altri carburanti in particolare il GPL e il metano è venuto fuori il problema di inserire delle normative nuove qua abbiamo il DPR del 2003 per il GPL dove di nuovo si parla di distanze io ripeto perché insisto sulle distanze perché dobbiamo trattare una deroga di uno che ha sbagliato a fare la pratica ma non esterno interno e ora dobbiamo vedere come risolvere questa questione perché hanno realizzato l'impianto sbagliato con distanze di sicurezza non rispettate male che va ci saranno danni per mezzo milione di euro insomma quindi attenzione a queste stramaledette distanze di sicurezza in questo caso qui vedete in alto a sinistra c'è un'autocisterna che rifornisce un serbatoio di GPL poi più in basso c'è la pensidina dove ci stanno i vari carburanti tra questi ci sono anche le colonnine del GPL il punto in cui viene posizionato il serbatoio del GPL che in genere è sui 30 metri cubi il punto in cui avviene il caricamento del GPL e le colonnine del GPL sono considerati punti pericolosi dell'impianto e rispetto a questi punti devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne ed esterne e anche rispetto ovviamente ai confini di proprietà e queste non vanno sbagliate perché se si sbaglia questo saltiamo subito questo è l'elenco insomma di quelli che sono gli elementi pericolosi ci sono distanze ovviamente reciproche e anche distanze rispetto all'esterno io non ve le dico perché quando farete la pratica la tratterete vediamo un caso di un un impianto vedete in alto a destra in quel colore sul rosa fucsia diciamo c'è il serbatoio e sulla sinistra ci sono i le colonnine quindi si farà tutto l'impianto con la tubazione interrata che porta il GPL dove lo deve portare e rispetto a quei punti pericolosi noi andiamo a calcolarci la distanza di sicurezza attenzione a un piccolo particolare nel GPL che a volte il punto di carico del serbatoio di GPL sta sopra il serbatoio altre volte sta distaccato dal serbatoio questo dipende dal fatto che il serbatoio e il punto di riempimento hanno distanze di protezione cioè distanze dal confine diverse quindi se voi il serbatoio lo mettete troppo vicino al confine poi il punto di riempimento non lo potete mettere troppo vicino al confine e dovete fare un tubo in fase liquida per spostare un po' con la in questo caso è stato fatto per spostare il punto di riempimento ecco vedete in questo caso qui vedete quei raggi sono le distanze di sicurezza di sicurezza esterna dal punto di riempimento dal perimetro del serbatoio e dalle colonnine del GPL in questo caso diciamo che non ci sono fabbricati nella zona interessata qua ci sarebbero delle serre ma insomma roba di coltivazione e verifico che la distanza di sicurezza sia rispettata chiaramente pure le distanze interne vanno rispettate ma soprattutto quelle esterne perché quelle esterne non possono essere derogate voi sapete che il che il DPR 151 prevede la deroga per queste attività qua non si può chiedere la deroga per la distanza di sicurezza esterna quindi se la sbagliate la sbagliate quindi non è è il fatto che il collega funzionario sbaglia pure lui purtroppo crea un problema a lui ma non risolve il problema a voi perché forse pure voi tecnici non dovete sbagliare nemmeno voi questo non c'entra niente è solo per darvi un buongiorno sulle auto elettriche quelle che ci aspetteranno nel futuro invece del GPL ci potrei mettere il metano anche qui ci sono dei punti di pericolo perché che cosa fa il metano mentre il GPL lavora a una pressione di pochi bar 7-8 bar il metano viene da una rete fondamentalmente a meno che non lo porti con le bumbole ma sono casi particolari viene dalla rete del metano a una pressione che può essere pure di 50 bar 60 bar che succede che man mano che questo metano arriva passa attraverso le cabinete con pressione e scende di pressione però io nelle macchine non ce lo posso mettere a bassa pressione ce lo devo mettere a una pressione che va intorno ai 200 bar perché essendo un gas che a temperatura ambiente non si dico e fa per poter emettere parecchio lo devo comprimere parecchio quindi devo avere un serbatore che mi resiste ad altissime pressioni perché nella bombola resta compresso come si fa a comprimere il metano si mette un compressore il metano arriva nel compressore che fa parte dell'impianto questo lo comprime lo passa in alcune bumbole come stoccaggio e quando arriva la macchina che deve rifornirsi di metano si apre il circuito e la macchina si rifornisce di metano quindi le bumbole il compressore la colonia del metano sono gli elementi di pericolo ci sono distanze di sicurezza interna distanze di sicurezza esterna vedete rispetto a alcuni elementi di pericolo questi raggi delle distanze di sicurezza esterna che vanno a finire nelle proprietà altrui questo è un compressore vedete a fianco ci sta uno stoccaggio di bumbole dove viene emesso il metano compresso questi compressori vengono anche questi tendenzialmente sono fatti prefabbricati comunque devono essere realizzati in un certo modo per poter garantire sicurezza perché qua si gioca con pressioni molto alte si parla di sicurezza di primo e secondo grado a seconda del fatto che il rivestimento del compressore il locale del compressore sia capace di resistere allo sfondamento laterale e superiore oppure se è capace di resistere soltanto allo sfondamento laterale ma ripeto questa come per le altre cose che ho detto fino a ora sono informazioni che poi andrete ad approfondire quando farete quel tipo di pratica attenzione per quanto riguarda il metano ma anche per quanto riguardava il gpl prima di cominciare la pratica per un impianto di distribuzione gpl o un impianto di distribuzione metano dovete procurarvi questo documento cioè il certificato di destinazione urbanistica dell'area senza di questo che dice che in alcune zone non si può realizzare l'impianto non ci venite nemmeno al comando a presenza della pratica questo qua sembra una cosa che si risolva in un secondo momento no questo va risolto immediatamente io quando ho fatto queste pratiche qui e mi mancava questo documento restituivo la pratica fino a che non mi fosse dato questo documento che in genere viene rilasciato dall'ufficio e qualche volta ci sono pure dei professionisti che hanno la facoltà di farlo meglio quello dell'ufficio urbanistico perché se sbagliamo qua facciamo un errore clamoroso cioè andiamo a mettere un impianto che poi viene realizzato in un'area dove non ci può stare quindi prima cosa verificare l'idoneità urbanistica poi ci sono quelli che hanno bisogno di rifornire i propri mezzi che vanno su strada i vari camion oppure un'industria che ha pullman e che cosa si fa in quel caso là si mette un contenitore distributore a terra nell'azienda questi sono massimo da 9000 litri che viene considerato a tutti gli effetti un impianto di distribuzione di carburante sono facili da fare sono prefabbricati sono omologati pure questi tanto per cambiare devono rispettare le distanze di sicurezza è una pratica talmente semplice che è una categoria quindi non c'è bisogno dell'approvazione progettuale poi ci sono delle norme abbastanza questo è il decreto di riferimento ci sono poi delle norme un pochino più questa è un'esercitazione che abbiamo fatto noi sull'incendio di un serbato del gp ci sono delle norme che capita di applicare poco e sono molto complesse per la verità e si applicano ai metano tutti sono il 16 e il 17 aprile 2008 il metano tutto classico è un'opera importante che può essere lunga chilometri attraversa di pezzi notevoli di territorio a volte si possono fare anche tratto per tratto quindi diciamo che qui il controllo che viene fatto a campione è molto blando perché è difficile controllare un tracciato che è lungo 2 3 4 km i decreti di riferimento vi ho detto sono il 16 aprile 2008 e il 17 aprile 2008 a seconda della della specie del gas che sta all'interno che è in genere metano specie è riferito alla pressione e che pure in questo caso qua che cosa vanno a porre in essere prima di tutto il controllo della idoneità delle tubazioni quindi in questo caso qua siccome qua ci sono pressioni alte in gioco bisogna verificare bene il collato bisogna far bene il collato delle tubazioni e poi c'è la necessità di verificare se la zona attraversata è una zona idonea in genere questi metano tutti non passano nei centri abitati a meno che non siano le reti quelle là cittadine che hanno una pressione molto più bassa ma se no attraversano le campagne voi le riconoscete quando vedete vediamo questo cartello qua quando si vede questo cartello vuol dire che sotto passa una linea del metano tutto queste sono le specie in cui si differenziano i metano i metano tutti e dipendono dalle pressioni che stanno in gioco questi sono decreti complicati ci vogliono quattro ore per fare un decreto come questo lo stesso decreto si applica agli impianti di riduzione dei metano tutti perché il metano viaggia a alta pressione nelle campagne ma poi prima di arrivare nelle industrie o nei centri abitati si viene decompresso mano a mano si decomprime sempre di più fino ad arrivare alla pressione della rete cittadina e tutti quegli impianti questo è un classico impianto di decompressione dove vedete c'è l'ingresso a destra del metano a sinistra ci sta la decompressione ci sta quella grossa valvola e si abbassa la pressione di riferimento per esempio da 24 a 12 da 12 a 5 ce ne sono vari di impianti di decompressione questo è un incendio di un impianto di decompressione c'è stata una fuga di metano chiaramente a una determinata pressione si è innescata e ha preso fungo in questo caso quasi opera abbassando la pressione raffreddando fino al punto di cercare di fermare il il getto di fungo qua viene descritto come vengono posati i pezzi del metano rotto se stanno sotto terra se la terra è permeabile o non è permeabile ci sono varie molediche questi sono impianti complicati bisogna studiarli per bene non si può fare in 5 minuti però per dirvi quali sono i riferimenti per attività che sono soggette ai frigidi del fuoco ma non sono soggetti al codice questo per esempio è uno sfiato ogni tanto ci deve essere uno sfiato lungo il metano rotto nel caso di superamento della pressione massima di esercizi la parte finale di questi impianti può finire in un'azienda e quella tratto finale che finisce nell'azienda che viene usato per le macchine aziendali che vanno a metano viene trattato pure con questi decreti che hanno proprio una parte relativa alla trattazione dell'impianto all'interno della fabbrica dice per esempio che bisogna fare i tratti interni alle attività il più brevi possibile meglio farli interrati quelli esterni a volte addirittura si fanno per evitare di attraversare un edificio si fa il tratto sopraelevato sul tetto addirittura eppure là c'è la descrizione di come vanno eseguiti a regola d'arte quindi anche questi come dicevo non sono soggetti al codice ma a quest'altro decreto velocemente e chiudiamo il decreto del 34 fondamentalmente è un decreto che viene dedicato alla posizionamento dei depositi di oli minerali cioè fondamentalmente idrocarburi fondamentalmente benzina gasolica rosene e compagnia cantante il problema è che qua si parla di depositi di notevole importanza noi qualche volta facciamo riferimento a questo decreto pure quando non avendo altro riferimento pure quando il deposito è molto piccolo chiaramente è un po' forviante la cosa perché è ovvio che non è possibile applicare una norma di questo genere a un depositino molto piccolo però il ministero ha detto quando non sai che applicare fai riferimento a questo almeno come punto di come almeno per analogiti comunque ripeto questi depositi ad esempio a Napoli ci sta la White Petroleum c'è la Sonatrack sono depositi giganteschi di idrocarburi vengono classificati sempre tenendo conto delle categorie che vi ho detto prima a seconda del quantitativo di liquido che hanno quindi ci stanno dieci classi in tutto e a seconda della quantità che hanno stipata all'interno dello stesso deposito si ricade in una delle categorie perché è importante saperlo perché a seconda della categoria noi possiamo fissare queste cose qua cioè le distanze di sicurezza quindi più la categoria è importante più le distanze rispetto al confine e rispetto a ciò che c'è all'esterno e voi pensate che a Napoli per esempio questi depositi non sono molto distanti dalla città e vengano rispettati chiaramente stiamo parlando di quantità di vivi veramente enormi in teoria pure l'impianto carburanti rientrerebbe in questa classificazione e infatti il decreto si applica pure ai carburanti però per quanto riguarda il nostro caso difficilmente il quantitativo di carburanti dell'impianto di distribuzione di carburante per benzina e gasolio intendo non per GPL e metano va a ricadere nell'applicazione del decreto perché qua si parla di grandi quantità di però il riferimento c'è a volte si fanno pure le equivalenze cioè se uno ha per esempio più liquidi diversi li può rapportare tutti quanti a benzina secondo questa classificazione e per vedere se rigate nei primi sette casi di classificazione che sono quelli più importanti altrimenti deve verificare se non rigate negli ultimi tre casi che sono riferiti soltanto al gasolio poi questo tutto quando soltanto per definire le distanze di sicurezza dal confine e dai fabbricati esterni poi tutti questi serbatoi vanno protetti con dei dispositivi di sicurezza che sono tanti per esempio vedete il primo si chiama fluido cioè che succede che si mette l'acqua nel serbatoio in modo che la benzina salga sopra perché è più leggera e quindi è totalmente isolata dal contesto esterno oppure si possono usare i sistemi a gas inerte a pressione ma anche a pressione molto bassa cioè che succede che in quel caso la benzina rimane a terra nel serbatoio ma viene completamente coperta da un gas inerte tipo l'azoto in modo che non possa prendere contatto con l'aria per creare la miscela esplosiva ci sta poi il sistema a saturazione che è quello che si usa nei serbatoi interrati di benzina che stanno nei distributori di carburante cioè si fa in modo che la parte alta della benzina dove c'è il vapore sia talmente ricca di vapore di benzina almeno il 20% che diventa praticamente impossibile che prenda fuoco perché i limiti di infiammabilità della benzina vanno dall'1 al 6,5% poi ricordate che sono i limiti di infiammabilità quindi se tu arricchisci molto i vapori di benzina la parte superiore non può prendere fuoco poi ci sta il sistema a doppia chiusura al liquido poi ci sta il sistema a tetto galleggiante che è molto utilizzato questo è bello perché il tetto praticamente poggia direttamente sul liquido quindi poggiando direttamente sul liquido non si crea quello strato di aria che potrebbe mescolarsi ai vapori di benzina poi ci sta il sistema a gasometro che è bruttissimo dove se la benzina dovesse essere sottoposta a un aumento di pressione insomma riuscirebbe a allontanare questa sovrappressione attraverso il passaggio a un gasometro che è munito di tagliafiamma questo è un sistema ormai in disuso poi c'è la valvole di pressione e depressione questa qua è più da gasolio per la verità meno che non ci sia anche il tagliafiamma allora va bene pure per le benzine questo lo vedete sempre quando fate benzina ci sta una parte dell'impianto carburante dove ci sono dei tubi lunghi quelli che cosa sono? sono tubi di equilibrio che sono collegati ai serbatori se c'è una sovrappressione c'è lo sfiato attraverso questi tubi ora se è gasolio insomma non è particolarmente pericoloso il problema dello sfiato se è benzina bisogna metterci pure un tagliafiamma che poi non è altro che un percorso vincolato del gas tale che se ci dovesse essere un incendio esterno questo non potrebbe mai entrare all'interno perché verrebbe spento mentre passa all'interno del tagliafiamma c'è poi la necessità di fare i bacini di contenimento perché se ci dovesse essere uno sversamento questo finirebbe il bacino di contenimento pure qua c'è tutta quanta un sistema di calcolazione a seconda della categoria a seconda delle dimensioni dei serbatui da proteggere a questo punto del prodotto che ci sta all'interno va bene passiamo velocemente all'altra slide eventi così cominciamo a fare la lezione proprio di oggi cerchiamo di farla molto rapidamente e poi facciamo un break a fare la lezione Dottor Antonelli, dovremmo passare alla slide eventi. Ora sì, mi sentite voi, sì? Ok. 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 allo ero al telefono, mi perdoni solo un secondo carico la documentazione e facciamo il numero 1 e 20 e 20 sì, poi facciamo 10 minuti di break certo, assolutamente lo facciamo dopo questa presentazione qua? sì, va bene grazie mille, grazie allora questa slide molto sintetica, sono solo 20 slide, l'ho fatta per farvi capire di che cosa parliamo in Italia esistono come in tutto il mondo anche delle attività molto pericolose e sono tanto pericolose perché se si dovesse verificare un incidente, questo incidente andrebbe a incidere su ciò che è all'intorno della proprietà dell'azienda in cui si è verificato il medesimo incidente chiaramente questa pericolosità è dettata fondamentalmente dalla tipologia di sostanze che sono detenute l'incidente che dà nome a questa direttiva che si applica a questi tipi di stabilimenti è l'incidente di Seveso che avviene negli anni 70 che è molto anziano se lo ricordo perfettamente in quell'occasione lì c'era un'azienda che lavorava dei prodotti per l'azienda farmaceutica però in prodotti intermedi che aveva creato già in passato qualche piccolo problema soprattutto alla fauna ma che non aveva diciamo creato problemi tali da considerare particolarmente pericolosa l'attività cosa accadde? accadde che un giorno ci fu una fuoriuscita di un prodotto che noi chiamiamo diossina anche se il nome chimico è un po' più complesso che produsse notevoli danni all'ambiente circostante vegetazioni animali molti animali morti e produsse soprattutto alle persone questo tipo di problema la cloracne cioè insomma una sorta di allergia della pelle che durò parecchio tempo soprattutto per i bambini ma non soltanto sembrerebbe poi che col passare del tempo alcune delle persone abbiano avuto pure degli effetti più gravi interiori tipo cancri e via dicendo cosa accadde in quella situazione lì? che in un reattore ci fu una runaway reaction cioè una reazione incontrollata che non fu bloccata in tempo cioè ci fu un aumento di temperatura che non fu bloccato in tempo perché l'operatore si dimenticò insomma di intervenire il sistema automatico non intervenne e si produsse una reazione chimica non desiderata incontrollata ora non è che non era stata prevista una cosa del genere dai tecnici tant'è vero che esistevano le valvole di sovrappressione che consentirono al prodotto che si era formato di fuoriuscire nell'ambiente il problema è che questi non avevano considerato che il prodotto che si era formato indesiderato era un prodotto particolarmente pericoloso cioè la diossina e questa creò tutta una situazione diciamo prima di tutto socio-biologica voglio chiamarla ma anche da un punto di vista insomma della politica non indifferente perché nacque il problema di queste aziende e non fu un problema soltanto italiano perché queste aziende stavano dappertutto tant'è vero che l'Europa decise di emanare una direttiva proprio relativa a questo tipo di aziende che ebbe il nome proprio di direttiva Seveso che nel corso del tempo è stata rinnovata altre volte attualmente è in vigore la direttiva Seveso-Tefi ci sono stati altri incidenti storici ma adesso li facciamo a ruota libera ci fu il problema dell'arsenico che finì nel Mar Nero dalla Romania insomma ci fu un insomma un crollo di un di un di un deposito di scarti di lavorazione dell'oro perché là c'erano molto minire di oro e di argento che conteniva pure metalli tossici che chiaramente produsse l'inquinamento del fiume e poi di conseguenza del mare ci fu l'esplosione in Olanda con fuochi d'artificio che procurò moltissimi morti ci fu l'esplosione in Francia del nitrato di ammonio che sarebbe lo stesso che è esploso in Libano pochi anni fa che produsse pure qua moltissimi morti danni importanti vedete queste aziende che trattano materie come vedete fanno danni se non vengono ben manipolate e poi c'è stato il caso che io sempre tratto mi piace molto a Napoli credo che l'azienda fosse l'AGIP che ora non ci sta più dove c'era un deposito di idrocarburi quello che abbiamo visto prima col decreto 31-7-34 che successe che durante il dicembre dell'85 una nave una nave che trasportava benzina scaricò attraverso l'oleodotto che stava ad arsena petroli la benzina che andava verso il deposito di idrocarburi dell'AGIP e che successe è che uno di questi serbatoi che era stato riempito dal non so perché non è uscito tutta quanto è quasi praticamente siccome nessuno controllava a un certo punto sono passati pure parecchi anni da allora a un certo punto ci fu un overflow di benzina che fu riuscita al serbatoio e finì nel bacino di contenimento il vapore della benzina circolò per l'azienda vedete quanti serbatoi c'erano e a un certo punto si innescò in una sala pompe che stava più dalla parte opposta se vedete quel disegno sulla destra vedete che nella zona destra dove c'era il serbatoio che andò in overfilling overflu c'era un campo di infiammabilità superato cioè c'era una concentrazione di vapore di benzina superiore al campo di infiammabilità nella zona sinistra c'era una concentrazione di vapore di benzina inferiore al limite inferiore di infiammabilità poi c'era tutta quella fascia centrale che vedete attraversare tutto il deposito di idrocarburi che invece andò in campo di infiammabilità per cui ci fu l'incendio che prese tutta quella zona dove il la vapore di benzina era entrato in campo di infiammabilità e questi sono stati gli effetti della verità questa era una sala la pompe prima e dopo questi sono dei serbatoi prima e dopo questo è un serbatoio che è collassato proprio qua non so ma non si vede bene il non lo so ci sono dei problemi di visione comunque le slide le avete questa è pure a me si vede male per la verità e vabbè questa qua è l'ultima slide che voi troverete nella pratica semplicemente l'elenco vedo anch'io il documento che evidentemente è danneggiato faccio una prova per vedere se cambia e no è solo l'ultima pagina però perché vedo comunque voi lo rimandiamo eventualmente comunque questa qua è una slide che è soltanto descrittiva del fatto che noi abbiamo in campagna 21 attività seveso sopra soia dopo vediamo nella slide che faremo dopo i dieci minuti di pausa che cosa vuol dire sopra soia e sono concentrate nelle varie province diciamo che il grosso sta a Napoli una sta a Avellino nessuno a Benevento tre stanno a Caserta e il resto stanno a Salerno sono quasi sempre depositi di GPL o di idrocarburi e ce ne sta qualcuna dove vengono trattate sostanze chimiche per esempio la PPG di Caivano oppure la BQM di Buccino a Salerno o l'acido formico che sta alla chimie di solufra da Avellino il resto sono tutti tutta roba che è pericolosa fondamentalmente perché brucia va bene allora chiudiamo per adesso ci vediamo confermo confermo che evidentemente l'ultima anche nell'altro nel documento l'ultima immagine è sgranata diciamo che è rovinata però fondamentalmente è l'unico documento quindi adesso io non ho il powerpoint eventualmente se lei ce l'ha l'ingegnere verifica l'ultima pagina la ricondividiamo allora sono le 10 e 15 ci vediamo le 10 e 30 va bene va bene ok a dopo allora pausa mantenete inalterata la connessione per favore buon caffè grazie la lascio continuare credo che abbia qua no cioè a posto allora a posto prego allora quando viene emanata una direttiva europea questa non ha immediata applicazione dello Stato deve essere recepita da un strumento giuridico dello Stato in questione l'ultima direttiva Seveso la Seveso Ter ricordatevi direttiva Seveso ricordatevi sto nome vi potrà essere utile direttiva Seveso è stata acquisita in Italia con il decreto legislativo 105 2015 questo non vuol dire che quelle precedenti non avessero valore pure quelle sono state acquisite con altri decreti legislativi che sono stati applicati ogni tanto però le norme sulle sostanze pericolose cambiano e quindi bisogna aggiornare anche la direttiva nel caso specifico la direttiva è stata aggiornata fondamentalmente per questi motivi uno perché il regolamento CLP che invece è un regolamento di immediata applicazione a livello europeo CLP vuol dire Classifying Labelling Packaging cioè modalità di classificazione etichettatura e imbacchettamento delle sostanze sono cambiate in sostanza quello che è successo che alcune sostanze sono passate da nociva dall'essere nocive all'essere tossiche ne sono cambiate pure altre di sostanze ma il principale cambiamento è stato questo che alcune sostanze che venivano considerate soltanto nocive cioè facevano male ma non molto sono diventate tossiche cioè le stesse sostanze sono state considerate molto più pericolose addirittura mortali e questo ha creato un po' di scombiglio nelle aziende che avevano queste sostanze cito come esempio proprio palese la chimia di solufra di Avellino che aveva l'acido formico e si è trovata improvvisamente da non essere un'attività seveso a diventare non solo attività seveso ma addirittura sopra soglia cioè la più pericolosa poi è stata aggiornata la modalità con cui il pubblico può accedere a visionare gli atti delle società per quanto riguarda il fatto di abitare nei pressi di queste aziende e anche è stata facilitata la possibilità da parte di questi del privato di accedere all'istituto giudiziario quando ritenga che la realizzazione di un impianto o la modifica di un impianto comporti un pericolo per l'ambiente circostante inoltre è stata anche sposata la volontà da parte della direttiva di diminuire gli oneri da parte della pubblica amministrazione nel caso specifico il nostro ministero è riuscito a sposare questo aspetto unificando per le attività di soglia superiore il procedimento seveso al procedimento di rilascio del certificato di prevenzione di incendi che prima i due procedimenti erano paralleli a volte addirittura contrastanti adesso invece il tutto è stato unificato per cui chi esamina una pratica seveso sopra soglia automaticamente alla fine della pratica alla fine del 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 lavoro dovrà di fatto rilasciare il certificato di prevenzione di incendi chiaramente il decreto legislativo è molto vasto è costituito da 33 articoli quasi tutti importanti da 6 allegati numerici e 11 allegati letterali ovviamente ogni allegato contiene un argomento che viene trattato si tratta di aziende particolarmente delicate per cui non si può lasciare nulla al caso negli allegati numerici si va da l'allegato 1 che adesso vedremo come è fatto cioè quali sono le sostanze che rientrano nella normativa seveso e quando è che rientrano nella normativa seveso a altre informazioni che i tecnici che lavorano per queste aziende devono proporre per rispettare il decreto chiaramente ci sono una serie di documenti che sono associati alla pratica seveso ci sono i rapporti di sicurezza che sono dei super progetti in sostanza e che devono essere redatti dalle aziende sopra soglia ci sono poi i sistemi di gestione della sicurezza i piani di emergenza interna ed esterna che invece vanno redatte per tutti gli stabilimenti servizi sia quelli sopra soglia sia quelli sotto soglia e ci sta scritto quali sono le informazioni che devono essere date ai cittadini per che questi si possano comportare adeguatamente in caso di pericolo per quanto riguarda gli allegati letterali io soprassiederei perché in realtà quasi entra ancora più nello specifico di come devono essere redatti tutti quanti i documenti di cui abbiamo parlato prima e si apre anche ad altre altre situazioni per esempio ci sta l'allegato E che è un allegato particolarissimo che raramente si applica quando ci sono più attività seveso vicine e si va a valutare l'effetto domino che ci può essere tra un'attività seveso e l'altra in Campania l'effetto domino non è stato mai valutato ed è l'unico posto in cui potrebbe essere valutato chissà forse prima o poi si farà è la zona costiera dei depositi del napoletano ci sta pure un allegato E modalità anche contabile e tariffe da applicare in relazione cioè esiste un allegato specifico che dice che non solo queste attività devono essere controllate ma queste attività devono pure pagare per il controllo che devono avere e si tratta di cifre non non piccolissime vediamo che cosa contiene l'allegato 1 saltando un po' questa parte perché la rivedremo nella slide successiva l'allegato 1 è il cuore del decreto legislativo quando voi trattate una pratica e avete un dubbio che la vostra attività possa ricadere in seveso dovete andare a vedere l'allegato 1 che si compone di due parti nella prima parte ci sono le categorie di sostanze cioè le sostanze vengono raggruppate per famiglia prima nella vecchia normativa erano 10 adesso con il nuovo decreto sono diventate 21 le categorie di sostanze nell'altro allegato invece nell'allegato 1 parte 2 ci sono sostanze considerate talmente talmente più pericolose che per esse è stata fatta un'individuazione specifica per nome queste sostanze specifiche prima erano 34 sono diventate 48 quindi se voi avete una sostanza prima andate a vedere se il suo nome sta nell'allegato 1 parte 2 e se non sta lì andate a vedere se sta nell'allegato 1 parte 1 come famiglia come categoria di sostanza come si fa a capire la categoria? si legge nella scheda di sicurezza a seconda dei quantitativi di queste sostanze il vostro stabilimento potrebbe essere di soglia superiore o soglia inferiore quali sono i pericoli che individuano gli allegati? sono 4 i pericoli per la salute si tratta di un piccolo capitolo che contiene tutti i tossici i pericoli fisici che contiene la stragrande maggioranza dei prodotti dove il pericolo è fondamentalmente la possibilità di produrre calore in maniera più o meno pericolosa quindi parliamo di liquidi infiammabili gas e via dicendo poi ci sono i pericoli per l'ambiente e altri pericoli che sono stati esclusi dai casi precedenti noi fondamentalmente lavoriamo sui pericoli fisici e sui pericoli per la salute ma ci sono anche gli altri possono esserci pure gli altri ci vorrebbe essere un'attività che ha un prodotto che non rientra nei pericoli per la salute non rientra nei pericoli fisici però poi stranamente rientra nel pericolo per l'ambiente e allora viene soggetto a seveso per quel fatto lì cambia poco per l'atto pratico però giusto per capire dove vi dovete infilare ripeto però le ultime due sono casistiche più rare io qui avevo fatto un confronto tra come era come l'attuale classificazione delle sostanze e quella che era precedentemente però diciamo che col passare dei mesi se non per non degli anni perché dal 2015 a oggi sono passati otto anni diciamo che questo paragone diventa sempre più blando e meno importante perché tanto ormai tutti i tecnici che hanno lavorato con i vecchi decreti si sono abituati al nuovo ecco il pericolo per la salute abbiamo vedete come famiglia di sostanza la tossicità acuta H1 è descritta nella scatena di sicurezza il significato sta scritto nella scatena di sicurezza la tossicità acuta H2 la tossicità specifica per organi bersaglio H3 quindi voi dovreste vedere se la vostra sostanza contiene il simbolo del teschio che indica i tossici e vedere in quale di questi casi rientrate se il quantitativo che voi detenete si trova in uno di quei numeri che stanno a destra voi siete sotto soglia sopra soglia o non siete nulla supponiamo di avere il cloro il cloro è una sostanza tossica però il cloro non lo trovate qui ma lo trovate nell'allegato parte 2 perché è una sostanza che viene richiamata per nome però diciamo che sia un parente del cloro che è una sostanza tossica se abbiamo una sostanza che è classificata H1 e abbiamo 4 tonnellate di quella sostanza non stiamo in seveso se invece abbiamo 8 tonnellate di quella sostanza stiamo in seveso ma in seveso di soglia inferiore se invece abbiamo 25 tonnellate di quella sostanza stiamo in seveso ma di soglia superiore e che comporta adempimenti in più e la stessa cosa vale per gli altri quindi a seconda di dove individuate la vostra categoria di sostanze voi vedete quali sono le tonnellate a destra sono sempre tonnellate che non dovete superare o dovete superare insomma per andare a inquadrare il vostro problema specifico per quanto riguarda i pericoli fisici vedete ci sono gli esplosivi i gas infiammabili gli aerosol infiammabili quindi voi dovete vedere in quali di queste famiglie rientrate a meno che non rientrate nella nomenclatura specifica per sostanza che sta nell'allegato 1 parte 2 e vedete se rientrate nella colonna 2 o nella colonna 3 o se non rientrate proprio e quindi non siete soggetti a sevese e così andando avanti nei pericoli fisici vedete ci stanno anche i comburenti quindi ci sta dell'ossigeno iperossidi e via dicendo queste sono vedete questa è la nomenclatura del decreto 334 del 99 cioè che era il decreto 105 prima che diventa la 605 per molti anni abbiamo usato questo decreto come faro poi questo decreto è degatuto perché è uscito dalla serie Soterra e abbiamo dovuto applicare il decreto 105 del 2015 vedete che prima la classificazione delle sostanze era un po' più semplice ma è diventata molto più articolata questi sono invece i pericoli per l'ambiente e altri pericoli che potete andare a individuare leggendo sulla scheda di sicurezza la presenza dell'indicazione E1 pericoloso per l'ambiente acquatico che è la tossicità acuta 1 o la tossicità cronica 1 e così via se voi trovate il vostro prodotto e vedete che questo prodotto ha questa dicitura andate a vedere quanto ne avete nella vostra azienda e vedete se rientrate in soglie inferiore o soglie superiori è chiaro che come è ovvio che sia i prodotti che facilmente rientrano in seveso sono quelli tossici di categoria H1 perché là bastano 5 tonnellate e sta in seveso invece per gli altri per stare in seveso devi raggiungere quantitativi molto più importanti per quanto riguarda invece la parte 2 l'allegato 1 parte 2 invece delle famiglie di sostanze si parla proprio delle sostanze e quindi una sostanza se non la si trova qui la si deve cercare nella parte prima ma se la si trova nella parte seconda si prendono i dati della parte seconda qua sono state inserite non tutte e 48 le sostanze ma soltanto quelle aggiuntive per esempio nella sostanza numero 34 è stato aggiunto oli combustibili densi combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità poi sono stati aggiunti questi signori qua ammoniacani trattifluoro di boro solfluoro di roggio quindi se io ho la piperidina non la devo andare a cercare nell'allegato 1 parte 1 ma devo adottare i quantitativi dell'allegato 1 parte 2 quindi non è troppo complicato capire se la nostra attività l'importante è che quando voi prendete un incarico e vi rendete conto che la vostra attività non è un'attività banale ma è un'attività dove si usano sostanze pericolose chiediate bene chiaramente formalmente per iscritto quali sono le sostanze che il gestore utilizza per portare avanti la sua attività una volta che vi ha dichiarato cosa c'è vi dà anche le schede di sicurezza e voi vi studiate le schede una per una per capire dove siete inseriti ora uno potrebbe pure dire vabbè ma a me è capitato di avere a che fare con un'azienda che ha più sostanze pericolose ma tutte quante in quantità inferiore ai limiti seveso allora io non sono soggetto a seveso non è detto perché quando ci sono più sostanze pericolose chiaramente sommando le mele con le mele le pere con le pere bisogna fare una sorta di media ponderata per capire se la somma di queste sostanze i quantitativi di queste sostanze pericolose ti fanno ricadere comunque in serio come si fa è più facile vederlo che dirlo supponiamo di avere un deposito dove c'è soltanto GPL gas di petrolio liquefatto che tra l'altro abbiamo trattato nella prima parte della lezione questo è il deposito di GPL se ha più di 30 tonnellate di cioè se ha 30 tonnellate di GPL non è soggetto perché il limite è 50 se c'ha 60 tonnellate di GPL è soggetto ma è di soglia inferiore se c'ha 250 tonnellate di GPL è soggetto ma è di soglia superiore perché il limite della soglia superiore è 200 e questo è facile supponiamo invece di avere un'attività che ha tre sostanze tossiche chiaramente questa sommatoria ponderale va fatta per famiglie di sostanze cioè non posso qualificare tossici con infiammabili ma tossici con tossici e infiammabili con infiammabili e se una sostanza è sia tossica che infiammabile viene trattata una volta come tossica e una volta come infiammabile supponiamo di avere delle sostanze che si chiamano cloro formaldeide e ossidio di etilene e per esempio l'ossidio di etilene è sia tossico che infiammabile però in questo contesto ci interessa come tossico il cloro diventa soggetto quando almeno c'ha 10 tonnellate di quantitativo noi ne abbiamo soltanto 5 quindi apparentemente non siamo soggetti la formaldeide diventa soggetta a soglie inferiore quando c'ha almeno 5 tonnellate di materiale presente noi ne abbiamo soltanto 2 quindi non siamo soggetti l'ossidio di etilene pure diventa soggetto a seveso quando supera le 5 tonnellate ma in questo caso noi ne abbiamo soltanto 2 quindi uno potrebbe dire di non essere soggetto a seveso invece no bisogna fare la somma ponderata cioè rapportare la somma tra il quantitativo che noi abbiamo e il quantitativo limite quindi il cloro si fa 5 diviso 10 perché 10 è il limite del cloro formaldeide è 2 diviso 5 perché 5 è il limite della formaldeide e anche l'ossidio di etilene viene rapportato con 2 diviso 5 perché 5 è il limite di soglie inferiore dell'ossidio di etilene si sommano queste frazioni e si vede che cosa esce se esce un numero maggiore di 1 vuol dire che singolarmente le sostanze non sono soggette a seveso ma messe insieme e sommate ponderalmente sono soggette a seveso e sono di soglia inferiore se facciamo lo stesso giochetto con i limiti della soglia superiore vedremo che la sommatore viene minore di 1 il che vuol dire che lo stabilimento è sì soggetto a seveso come soglia inferiore ma non è soggetto come soglia superiore per cui viene trattata come soglia inferiore possiamo passare all'ultima slide ovviamente se ci sono domande io sto qua per rispondere possiamo mettere in all'interno della chat così vediamo risposte audio video insomma prima c'era una domanda ho visto però mi sono accorto dopo che parlava della mi è staccato delle categorie era solo caduta una connessione vediamo un po' non vedo domande forse questa qua vediamo ma quindi quale è la temperatura di autoaccensione o rilascio dei vapori infiammabili questo ferrara Alberto ma credo allora questo riguarda quando abbiamo parlato delle categorie A B e C esatto la temperatura di autoaccensione non c'entra nulla con la temperatura di infiammabilità sono due concetti totalmente diversi la temperatura di autoaccensione è la temperatura alla quale un oggetto combustibile prende fuoco se io metto il pollo nel forno e lo scaldo troppo quello prende fuoco perché il pollo ha raggiunto la sua temperatura di autoaccensione si brucia invece i liquidi infiammabili hanno un'altra temperatura di riferimento importante c'hanno pure quella di autoaccensione ma a noi di quella di autoaccensione non ce ne frega niente perché è talmente pericoloso il liquido infiammabile che si brucia molto prima di arrivare alla sua temperatura di autoaccensione ed è la temperatura di infiammabilità è la temperatura a cui un liquido infiammabile emette vapori in quantità tale che diventano infiammabili quindi la benzina per esempio a meno 20 gradi sotto zero già emette vapori in quantità tale che prendono fuoco però se io prendo la benzina la metto a qualche metro da un emettitore di calore e questa benzina la riscaldo la riscaldo la riscaldo la faccio arrivare a 300 400 500 gradi si autoaccende ma questo è un problema che un professionista di ingegno non si può opporre perché è importante conoscere la temperatura di autoaccensione della carta del legno non di un liquido infiammabile perché il liquido infiammabile è già pericoloso molto prima di arrivare alla propria temperatura di autoaccensione quindi non confondiamo i due concetti di autoaccensione col concetto di temperatura di infiammabilità che è proprio dei liquidi infiammabili per la verità non solo però fondamentalmente è proprio dei liquidi infiammabili invece l'autoaccensione è proprio di tutti i corpi infiammabili vogliamo mettere l'altra slide bene allora sì possiamo mettere l'ultima che dovrebbe essere il decreto legislativo proprio 105 sulla direttiva Seviso Ter eccola qua perfetto se ci sono domande le vediamo se no poi andiamo in conclusione di questo argomento qua prego prego infondiamo le parti fondamentali del decreto senza approfondire e anche perché questa per fare il corso di un decreto Seveso di un decreto del 105 2015 bisognerebbe fare il corso per analista di rischio che dura un mese quindi voglio dire si tratta di una materia nella materia però qualche concetto lo dovete avere perché vi potrebbe capitare di trattare un'attività e non rendervi conto che per esempio un esempio banale da un po' di tempo è stato è entrato in commercio il metano liquido detto anche GNL non GPL GNL gas naturale liquefat e alcuni impianti di carburante si sono dotati di serbatoi di metano liquido ora è successo un casino che ancora non siamo riusciti a dirimere alcuni di questi impianti avevano già un deposito di GPL perché avevano un impianto di autotrazione a GPL e l'impianto di autotrazione a GPL non si fa se non ci metti almeno 30 metri cubi di serbatoio che poi corrisponde a un certo numero di tonnellate di GPL lì per lì nessuno ci ha fatto caso poi sono stati inseriti questi impianti di metano liquido non di metano gas quello che abbiamo visto noi prima ma di metano liquido perché è uscita una linea guida che non è nemmeno un decreto per impianti fino a se ricordo bene fino a 50 metri cubi che pure comportano un quantitativo di metano liquido ora io non so dove stanno ma ci stanno quando sono state esaminate queste pratiche si sono dimenticati di sommare il GPL liquido liquefatto al metano liquido ed eventualmente pure alla benzina e al gasolo presenti che però incidevano poco e non si sono resi conti di aver superato il limite di 50 tonnellate quindi ci sono alcuni distributori di carburanti in Campania pochi per fortuna che non sanno che sono entrati in Seveso cioè non se ne sono accorti e manco noi purtroppo però facendo un controllo perché uno si sente con le altre regioni ogni tanto è capitato un caso ad Arezzo in particolare dove uno si è rifiutato di fare l'impianto perché c'è stato il problema Seveso e sta notizia è dilagata e quindi praticamente ci sta questo problema di attività autorizzate che sono Seveso e non sanno di essere Seveso chiudo parentesi allora per quanto riguarda chiaramente il il decreto 105 diciamo che qui ci sono competenze di varia natura perché l'autorizzazione per un'attività pericolosa come questa non può essere da soltanto da un soggetto diciamo che io sono un vigile del fuoco e quindi mi occupo principalmente delle funzioni che sono proprio del ministero dell'interno ma ci sono compiti della regione del ministero dell'ambiente del comune ci sono una serie di quindi non posso fare tutti i casi possibili però quelli che mi fascina sono quelli fondamentali perché tutte queste attività sevese di cui abbiamo parlato quelle sopra soglia alla fine volenti o nolante devono passare attraverso un organo che si chiama comitato tecnico regionale poi ci sta una una parte del ministero che emana delle delle indicazioni che è la direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica che fa parte del dipartimento di vigili del fuoco e poi ci stanno delle competenze specifiche dei prefetti uno in particolare il ctr è stato istituito anzi no istituito reistituito perché già esistiva col decreto legislativo del 139 2006 che è il regolamento con i compiti e funzioni dei vigili del fuoco di che cosa si occupa il ctr il comitato tecnico regionale si occupa soprattutto di attività sopra soglia che sarebbero quelle che avrei dovuto farvi vedere nell'ultima slide che in campagna sono 21 e sono divise per le varie province tranne bene 20 per cui l'attività sopra soglia deve essere redatto un rapporto di sicurezza che come vi ho detto è una specie di super progetto questo rapporto di sicurezza non viene redatto per le sottosoglie per le soglie inferiori ma solo per le soglie superiori e questo rapporto viene esaminato dal ctr poi il ctr deve programmare le visite ispettive cioè tutti questi stabilimenti sopra soglia sono soggetti a visita ispettiva tendenzialmente triennale tendenzialmente mentre invece il rapporto di sicurezza è quinquennale cioè ogni 5 anni si fa il rinnovo perché tendenzialmente triennale la visita ispettiva perché a seconda della pericolosità dell'azienda potrebbe essere pure biennale per esempio ce n'è stata una in campagna che è stata battezzata biennale altro compito del ctr è combinare le sanzioni amministrative per esempio un'attività seveso si scopre non aver fatto la notifica che è un documento obbligatorio che deve redigere e viene sanzionata vi assicuro che le sanzioni seveso sono sanzioni pesanti non è il 758 questo sono sanzioni molto pesanti economicamente il comitato tecnico regionale emette pure alcuni pareri di compatibilità territoriale e lo fa però sia nel caso delle ditte di soglia superiore che nel caso delle ditte di soglia inferiore cioè se tu costruisci una casa vicino a una ditta seveso lo puoi fare la prima cosa che devi fare è diventare al comune se il comune ha fatto già un piano regolatore che tiene conto del fatto che ci sta la ditta seveso e ha elaborato un allegato al piano regolatore che si chiama ERIR cioè elaborato per i rischi incidenti rilevanti e ha stabilito che tu là non vuoi costruire finisce là ma se il comune non ha redatto questo piano ERIR e non ho capito perché non l'ha fatto quasi nessuno cioè quasi nessuno abbia in campagna nessuno dei comuni che c'è la ditta seveso ha redatto l'ERIR e succede che questo qua per costruire deve chiedere l'autorizzazione a qualcuno a chi la chiede la chiede al comitato tecnico regionale attraverso il comune non vi dico come si fa perché pure là è una lezione di due ore ok si deve dimostrare di poter stare in quella zona e bisogna verificare una serie di cose a volte si dà anche per le contrari insomma altro compito del comitato tecnico regionale è valutare gli effetti domino vi ho detto che in campagna da noi non l'abbiamo mai fatto per quanto riguarda invece la direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica diciamo che è un organo centrale dei vigili del fuoco che fa un po' diciamo da collante fra tutte le reddite i comitati tecnici regionali italiani tiene un po' in ordine i dati le statistiche le situazioni in modo da confrontarle per prendere eventuali provvedimenti per esempio una cosa che stanno studiando proprio adesso io l'avevo già fatto per la vita un paio di anni fa e ma invece il ministero l'ha proprio imposto lui è quello di individuare sul territorio tutte le aziende seveso e scrivere all'interno di un asset quali sono le caratteristiche di queste aziende seveso cioè planimetria impianti di sicurezza aree di danno in caso di incidente di rilevante che coinvolga anche l'ambiente circostante vie di accesso questo perché per semplificare l'intervento dei vigili del fuoco nel momento in cui ci dovesse essere un evento all'interno di questa attività seveso e quindi ora lavoreremo nei prossimi mesi su questa su questa elaborazione anche se io per fortuna mi trovo già avanti perché l'avevo fatto già un paio di anni fa poi c'è il prefetto che ha il compito principuo di redigere i piani di emergenza esterna cioè se la ditta viene colpita da un evento che si chiama incidente rilevante perché dà effetti anche all'esterno perciò si chiama un'azienda al rischio di incidente rilevante deve fare in modo che le persone che si trovano al di fuori dell'azienda non attraversino le aree di potenziale danno durante l'evento in qualche caso addirittura ordina l'evacuazione delle abitazioni oppure no a secondo del tipo di problema che si è verificato questa funzione ce l'ha solo il prefetto quindi il piano di emergenza esterno non lo deve fare la ditta la ditta deve dare soltanto i dati alla prefettura per poter redigere il piano di emergenza esterna in Campania devo dire che le prefetture hanno redatto sono abbastanza ben ben messe solo devo dire la prefettura di Salerno tiene diversi piani che sono scaduti da diversi anni e quindi deve aggiornarle ma le altre prefetture da quello verificato sono diciamo fondamentalmente in regola il comitato tecnico regionale da chi è composto? il presidente e il direttore regionale dei vigili del fuoco poi ci deve essere il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio se l'azienda sta a Benevene il comandante di Benevene se sta a Salerno il comandante di Salerno poi ci vogliono altri tre funzionari dei vigili del fuoco che in genere sono tre dirigenti quindi già cinque elementi sono pompieri poi ci vuole un elemento dell'ispettorato diciamo del lavoro direzione territoriale del lavoro un rappresentante dell'ordine di ingegneri che è sempre il presidente o il vicepresidente dell'ordine di ingegneri di Napoli un rappresentante della regione due rappresentanti dell'ARPA un rappresentante dell'INAIL e poi ci vuole un rappresentante dell'ASL locale un rappresentante del comune locale e un rappresentante dell'ente di aria cioè della provincia sostanzialmente nel caso di Napoli della città metropolitana poi quando serve ci vuole la capettineria di Porto se il deposito è di tipo costiero e ci vuole il rappresentante dell'UMMIG unità unità nazionale mineraria per gli idrocarburi e le georisorci sarebbe in sostanza quando il deposito è un deposito sotterraneo tipo il petrolio tipo un deposito io in campagna non l'ho mai visto questo non ne abbiamo quindi forse in Basilicato ci sarà ora siccome ci sta un sacco di gente qua dentro il legislatore è stato furbo ha detto così il parere del comitato ha valore quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto perché se no mettessimo tutta questa gente non ci rilieva mai e quindi da questo punto di vista i nostri verbali sono sempre diciamo idonei altra cosa importante siccome all'interno di questo comitato ci sono anche organi politici poteva capitare che per ragioni non esclusivamente tecniche qualcuno avesse un'opinione in contrasto con quella di un altro e allora per evitare questa discrepanza faccio un esempio banale io dico che l'impianto non va bene il sindaco dice che va bene perché è amico del proprietario per capirci e allora che cosa ha deciso il legislatore che questa è una delle poche commissioni forse l'unica che conosca io per la verità in cui si può dare il parere anche a maggioranza per la verità non succede mai perché in genere il parere è sempre unanime ma a rigore ci vorrebbe essere il problema per elaborare i rapporti di sicurezza il CTR non ha il tempo di leggersi 800 pagine 1000 pagine di rapporto di sicurezza perché questi sono i numeri e allora delega un gruppo di 4 persone che è composto da un comandante di vigile del fuoco un funzionario di vigile del fuoco un funzionario ARPA un funzionario INAIL che esaminano il rapporto di sicurezza e poi lo discutono davanti al CTR che fa proprie le conclusioni del gruppo di lavoro oppure aggiunge altre prescrizioni quando si fa invece la visita ispettiva che è un altro tipo di controllo il rapporto di sicurezza è un controllo sull'impianto invece la visita ispettiva è un controllo sulle procedure di sicurezza non è la stessa cosa anche se molti confondono i due concetti per quanto riguarda le visite ispettive invece i componenti sono solo tre cioè non ci sta più il comandante e il coordinatore lo fa il vigile del fuoco pure questo qua una volta che ha finito la visita ispettiva deve relazionare al CTR per le conclusioni che possono essere favoribili contrari integrative come vi dicevo prima per ridurre gli oneri amministrativi nella pratica studio del rapporto di sicurezza entra pure la pratica di prevenzione di incendi esempio banale quando io devo dopo cinque anni presentare il riesame del rapporto di sicurezza perché ogni cinque anni lo devo riesaminare un'altra volta perché ci possono essere state delle modifiche o per dimostrare che è ancora tutto ok che le mie valutazioni sono state confermate scadono pure i termini per il rinnovo del certificato di prevenzione di incendi quindi fare il riesame del rapporto di sicurezza significa fare pure il rinnovo del certificato di prevenzione di incendi ora lo dico a voce se l'attività è un'attività che necessita di un parere da zero perché magari uno vuole istituire in un posto un'attività seveso prima per esempio noi l'abbiamo avuto proprio adesso ci sta un importante stabilimento di Napoli ma non sarà il solo di idrocarburi che inserirà all'interno della sua attività anche dei serbatoidi etanolo perché per la questione ambientale nel futuro i carburanti dovranno essere arricchiti con etanolo per problemi di tipo ambientale poiché l'etanolo prima non ci stava loro hanno dovuto chiedere il parere a noi al CTR e hanno dovuto presentare quello che si chiama NOF o meglio ancora rapporto preliminare di sicurezza cioè loro non hanno ancora installato i serbatoidi etanolo ma hanno chiesto a noi se possono installarli e hanno presentato un rapporto di sicurezza con le distanze di sicurezza le aree di danno con l'impiantistica prevista e via dicendo noi stiamo esaminando la pratica questa pratica a un certo punto darà un esito che sarà magari favorevole condizionato per esempio e loro potranno in quel momento realizzare i serbatoidi etanolo una volta che hanno realizzato i serbatoidi etanolo dovranno presentare un nuovo rapporto che si chiama stavolta rapporto di sicurezza dopo che li hanno realizzati che prevede di nuovo lo studio della pratica e stavolta anche il sopralluogo che è finalizzato all'ok definitivo e anche al rilascio del certificato modificato di prevenzione di incendi ovviamente e poi si relazionerà al CTR che darà il parere conclusivo a volte le modifiche non sono importanti e quindi non è necessario se per esempio ho degli uffici che si trovano di fronte alla linea delle baie di carico delle autocisterne della benzina e del gasolio e su questi edifici ci voglio fare un impianto fotovoltaico è vero che è una modifica dello stabilimento ma non è una modifica che cambia l'aspetto dell'incidente rilevante e quindi in quel caso lì chi fa questo tipo di modifica non è tenuto a presentare il rapporto preliminare di sicurezza perché non ce n'è bisogno dato che si tratta di una modifica non rilevante deve soltanto comunicare alla CTR che farà una modifica ma che questa modifica non è non dà aggravio di incidente rilevante e al massimo se l'attività è soggetta se per esempio quello è un magazzino di più di mille metri quadri se l'attività è soggetta ai vigili del fuoco deve chiedere il parere di conformità al locale comando di vigili del fuoco sempre tenendo informato il CTR ma non deve ripassare per il CTR ovviamente poi dopo quando ci sarà il riesame del rapporto di sicurezza ogni cinque anni il gruppo di lavoro esaminerà pure questa parte modificata ma è una modifica questa che non richiede questo tipo di aggiornamento vediamo quali sono le modifiche che invece comportano la ripresentazione del rapporto di sicurezza che ripeto si chiama preliminare perché viene prima dato l'ok sulla carta e poi viene realizzato effettivamente l'opera vediamo un attimo ecco qua queste sono le modifiche importanti cioè se tu hai una sostanza pericolosa che ne so l'acido formico e incrementi del 25% e più del 25% l'acido formico nel tuo impianto allora devi fare il rapporto preliminare di sicurezza se invece aumenti la capienza di questo acido formico del 20% ma soltanto su un singolo serbatoio devi chiedere pure la modifica al rapporto di sicurezza e quindi devi fare il rapporto preliminare di sicurezza e così via se tu il caso dell'etanolo se tu inserisci una sostanza che prima non c'era ma è una sostanza pericolosa in quantità di vitale da rientrare in soglia inferiore anche o anche superiore del del decreto della direttiva seveso devi fare pure qua la modifica perché il tuo incremento rientra in un incremento del rischio di incidenti rilevanti e quindi pure qua devi fare il rapporto preliminare di sicurezza se tu a un certo punto ti rendi conto che le modifiche che hai fatto oppure ti rendi conto del fatto che alcuni studi che avevi fatto non erano particolarmente precisi ma ti rendi conto che gli incidenti che tu avevi preventivato anche a causa del fatto che c'è stato un diciamo un evento che ha prodotto un caso che non era previsto prima e tu ti rendi conto che la tua analisi del rischio era sbagliata pure in questo caso qui devi ripresentare il rapporto di sicurezza per far rivalutare l'analisi del rischio e poi infine ci sta il caso in cui tu elimini delle apparecchiature o di sistemi ausitari di sicurezza che erano previsti che facevano parte del progetto che aveva consentito l'autorizzazione di quell'attività pur in quel caso devi giustificare questo fatto tutti gli altri casi invece ricadono in modifiche che sono importanti ma non sono di rilevanti per quanto riguarda l'incidente rilevante quindi tu quando farei modifiche diverse da qui ammettiamo che tu aumenti la sostanza ma solo del 10% è una modifica ma non è una modifica tale da aumentare il rischio di incidente rilevante allora tu fai la modifica alleghi una dichiarazione che si chiama dichiarazione di non aggravio di rischio da incidente rilevante che assomiglia un poco alla dichiarazione aggravio di rischio di incendio quella là prevista dal DPR 151 in questo caso si parla di incidente rilevante e vai avanti attenzione però che questo non vuol dire che tu lo fai senza che nessuno ti controlli se fai una modifica che comporta un aumento del rischio di incendio comunque devi passare per il comando locale per farti approvare la pratica se è una pratica di categoria B o C se invece tu ci aggiungi un gruppo elettrogeno che è una categoria A tu semplicemente la aggiungi al CTR dici che è una modifica che non comporta gravi di rischio di incidente rilevante al comando invece fai sapere gli mandi la scia per la categoria A in sostanza va bene ragazzi diciamo che quello che dovevate sapere ve l'ho detto c'è Claudia che dice se pur i prete è l'ultimo l'acronimo del piano l'acronimo del piano non ho capito quale sarebbe la vediamo vediamo Claudia gli agronimi c'è stato paricchi quando buongiorno quando parla del fatto che un'azienda impianto fosse in sede e ha detto che le regioni i territori ridigono dei piani non le regioni i comuni lo fanno erir erir vuol dire l'ho trovato nell'articolo ventidue del decreto centocinque elaborato del rischio di incidente rilevante grazie mille perfetto grazie grazie Claudia altre domande non ne non ne vedo quindi io direi che possiamo vediamo se c'è ulteriore domanda Federico buongiorno salve no praticamente vabbè mi hanno chiesto di entrare nella nella chat e Federico però io sono oramai non le dico più nulla ma lei non si può presentare alle 11 a un corso vabbè ha ragione però avevo avvisato ma quello che io le voglio dire il danno lei crede di farlo a me no 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 ma infatti non no vabbè ma parlate separatamente non di fronte a tutti i uomini vabbè no ma Federico è uno abituato a situazioni del genere nel senso veramente è difficile gestirlo però vabbè purtroppo per problemi di lavoro eh vabbè Federico faccio quello che vuole se riesco a recuperare va bene va bene allora signori io direi che a questo punto possiamo se non ci sono altre domande io direi che lasciamo tranquillo ingegner Cerrone lo ringraziamo e soprattutto lo ringraziamo per le preziosi informazioni che ci ha dato in apertura del corso e quindi tenetela assolutamente in evidenza e rispettateli i suggerimenti che ci ha dato insomma ecco ok arrivederci a tutti ingegnere grazie grazie a presto a presto a presto a presto